Pagelle, Friburgo 0, Juventus 2. Signori siamo tornati, eccoci qua. Vi dico subito che ieri sera guardavo con un occhio lo Sporting che giocava con l'Arsenal. Sporting che ha creato un gol da 50 metri clamoroso e poi ai calci di rigore ha eliminato la squadra capolista in Inghilterra. L'Arsenal è una delle squadre che insieme allo United era considerata tra le favorite per vincere questa Europa League. Abbiamo il sorteggio tra un paio d'ore, quindi poi nel pomeriggio parleremo sicuramente di quello che accadrà. Io vi dico, giunti a questo punto, non dico che una valga l'altra perché non è vero, ma quasi, siamo lì, eviterei la Roma perché non mi piacerebbe incontrare una squadra italiana in questo momento. Poi la Roma è una squadra abbastanza rognosa. Ne parliamo poi comunque nel pomeriggio. Vi lascio anche la live reaction che ho editato appunto ieri sera e che è uscita questa mattina. C'è anche una sorta di esultanza all'espulsione del loro numero 5 gulde perché aveva veramente stancato con quei tanti falli provocati e quindi abbiamo stappato una birra e brindato alla sua. Ma lasciamo da parte questa cosa, vi lascio il video qui sopra nelle schede e partiamo con i voti ai protagonisti. Voto 6 a Massimiliano Allegri perché si è arrabbiato. Era arrabbiato, ovviamente non è 6 perché si è arrabbiato, ma era arrabbiato e l'ha detto anche nel post partita. Molto, molto furioso con quella che è stata la prestazione della Juventus nel secondo tempo. Non so se avete visto la conferenza stampa post partita, ma ogni domanda che gli hanno fatto Allegri ha ribadito questo concetto e era scuro in volto. Non era soddisfatto perché sapeva che la Juventus non aveva fatto una prestazione, l'ha ribadito lui stesso, da squadra da superiorità numerica. Allegri ha detto questi secondi tempi contro una squadra in 10 non li possiamo fare. E io sono assolutamente d'accordo. Questa non è stata una volontà dell'allenatore. La Juventus in Rio non ha giocato un secondo tempo perché Allegri gli ha chiesto questa roba qui. Questo no. E allora qui torna una domanda antica, ancestrale, perché di tanto in tanto questa squadra si concede questi momenti di matta. Su quali tasti deve lavorare poi invece l'allenatore? Cioè quali sono le cose dove Allegri può intervenire effettivamente? Perché se Allegri questa roba non la vuol vedere. Significa che durante l'allenamento bisognerà andare a toccare determinati tasti. Non lo so, sei sotto pressione, non lo so, hai la pancia piena, senso del pagamento. Questi giocatori a un certo punto probabilmente vanno ad immaginarsi che la partita è finita e quindi va bene così. Io vi ho già detto la mia, secondo me, il fatto che la Juventus abbia paura di prendere gol va a influire tanto su questa roba. E quindi Allegri non deve lavorarci durante la partita ma durante gli allenamenti. Io ieri, a prestazione di Allegri, ho poco da dire perché la Juve il primo tempo, a parte i primi 15 minuti un po' scricchiolanti, lo gioca come lo deve giocare, provoca l'espulsione del giocatore avversario, va in vantaggio una volta, viene annullato, va in vantaggio la seconda volta, va in vantaggio di superiorità numerica, va in vantaggio di due gol tra andate e ritorno. Mi aspettavo un secondo tempo di gestione che non c'è stato perché tanti mi hanno detto ma sì ci sta, dato che sei avanti e ormai la partita è finita, inizia a pensare la partita domenica e va in gestione. Sì ma non siamo andati in gestione e lo stesso Allegri lo sa e lo stesso Allegri ha evidenziato questa roba, anche perché adesso domenica andiamo a giocare il derby d'Italia con l'Inter a San Siro. Poi ci fermiamo per la pausa nazionale, mi dispiace che ci sia la pausa nazionale giunti a questo punto, poi c'è un aprile importante, tosto, in cui ci sarà appunto andate e ritorno di semifinale di Coppa Italia, ci sarà l'esito del ricorso fissato al 19 di aprile, ci saranno delle partite importanti, probabilmente anche l'Europa League, ragazzi inizia a essere un mese in cui incontriamo tre volte l'Inter nelle prossime tre settimane, praticamente quattro settimane, bisogna capirlo, bisogna prepararsi e bisogna veramente mettersi nella testa che il primo tempo della Samp e il secondo tempo del Friburgo non sono la strada da seguire, se si vuole provare a almeno a vincere o entrare nei primi quattro, nei primi due di questa competizione in Europa o provare a vincere e superare l'Inter in Coppa Italia, provare a arrivare in finale in Coppa Italia. Tosta, dura, l'allenatore lo sa e l'allenatore lo ha fatto capire, ora bisogna capire se proprio l'allenatore durante la settimana riuscirà a migliorare questa roba qui, Allegri chiede appunto di lavorarci e migliorare e ragionare su questa roba, l'ha fatto in allenamento, non durante la partita. Voto 7 a Scesni perché nelle due volte che è stato chiamato in causa al Friburgo non ha creato dei veri e propri pericoli, a parte in un paio di occasioni in cui proprio Scesni è stato molto, molto bravo a salvare il risultato. Se nelle partite d'Europa arriviamo a dire che il portiere è uno dei migliori in campo, significa che la squadra non ha fatto la prestazione che ci immaginavamo, a maggior ragione, contro una squadra che non è sembrata resistibile come il Friburgo, che comunque non perdeva in casa dall'agosto contro il Borussia Dortmund, quindi sicuramente una squadra importante, interessante, che la Juventus ha avuto la bravura, ha avuto la forza di superare, però abbiamo ballato, abbiamo ballato troppo e questa cosa non va bene. Voto 7 pure a Gatti perché ieri sembrava di vedere giocare l'Atalanta per quanto riguarda Gatti, giocatore molto gasperiniano, giocatore che adora andare in giro per il campo, si butta dentro da braccetto difensivo, il calcio moderno vuole anche queste cose, con i difensori che entrano dentro il campo, i difensori che vanno dentro l'area, vanno ad impostare, vanno a creare superioreità numerica, Gatti ha avuto il merito e la bravura di procurare il calcio di rigore, Gatti ha fatto una prestazione super anche nella live reaction, se l'avete vista ogni tanto si sentiva, bravo Gatti, bravo Gatti, bravo Gatti, perché tanta roba su ma anche tanta roba dietro quando deve difendere, Spilungone, alto per sempre, umile, umile, veramente umile, ho avuto modo di incontrarlo due volte, una a Villarpe Rosa e una a Parigi, quando sono andato a vedere PSG Juve, tutte e due le volte mi ha toccato Gatti, mi ha stupito perché a Villarpe Rosa si è denudato completamente, ha dato qualcosina a ogni singolo tifoso, la maglietta, la canottiera, i pantaloni, le calze, è rimasto in mutande e gli chiedevano di andare via, dicevano dai vai a fare la doccia, lui continuava a fermarsi ad ogni singolo tifoso finché non lo sono venuti a prendere fisicamente, l'hanno portato via. A Parigi pioveva, tutti i calciatori finita la partita sono entrati sul pullman tranne lui, lui è venuto lì, ha fatto le foto con noi, quindi si sente, si avverte che per lui è un sogno, sta vivendo un sogno, mi è dispiaciuto vedere che non è riuscito a fare gol in quell'occasione, però è match winner della gara, probabilmente il migliore in campo. Mi è piaciuto tanto, non mi era piaciuto Bonucci nelle uscite precedenti, non mi aveva convinto De Sciglio come braccetto e adesso che Alessandro non sarà disponibile nemmeno con l'Inter, Gatti, Gatti è il giocatore che deve partire titolare con l'Inter, poi può sbagliare la prestazione, può sbagliare la partita, ma questo è il giocatore che tra le riserve ha più necessità di giocare, perché Rugani è un giocatore che adesso inizierà la fase calante di carriera, Bonucci è un giocatore in declino assoluto, Alessandro è un giocatore infortunato a cui verrà probabilmente rinnovato il contratto, ma che con l'Aventus più niente a che vedere, dato che Danilo può giocare molto bene anche sul centro-sinistra, Gatti, Gatti titolare is the way, può sbagliare? Certo, la prima stagione in Serie A con la Juve, anzi le altre prestazioni che gli abbiamo visto fare in stagione fino ad adesso non erano state clamorose, però è giusto che giochi, è giusto che giochi. 6.5 a Bremer che ha avuto la bravura, la reazione sull'intervento di Scesni, la bravura nel colpire la traversa, anche se poi ci ha messo la manona al portiere degli avversari, altra prestazione solida da parte di Bremer, ripeto, dietro abbiamo ballato un po' troppo, troppi palloni fatti mettere dentro all'area di rigore a partire dagli esterni, per fortuna i nostri difensori centrali ha risposto presente. 6.5 oppure Danilo che a un certo punto nel primo tempo si perde, un giocatore del Friburgo su un calcio d'angolo, proprio dove c'è l'intervento di Scesni, il rischio di marcare a zona un po' questo qui, Danilo lo sta vedendo un po' appannato, devo dire la verità, sta mantenendo un standard qualitativo di prestazione elevato, ma lo vedo un po' appannato, probabilmente perché le sta giocando tutte, probabilmente perché non si riposa mai, dovrà giocare e stringere i denti anche con l'Inter, giocatore clamoroso Danilo in questa stagione, e deve farsela andare giù, dobbiamo metterlo nelle capsule criogeniche, tipo quelle di Dragon Ball per farlo recuperare al meglio, perché senza Danilo diventa un problema. 6.5 a quadrado che sta ricominciando un pochino a trovare i suoi giri, non una prestazione bella come quella del secondo tempo con la Samp, però una prestazione che inizia ad essere da quadrado, si iniziasse a rimanere anche su quando non c'è il contatto, e mettere effettivamente il pallone all'interno dell'area di rigore in the box a servire gli attaccanti sarebbe anche meglio, perché perdiamo delle potenziali occasioni per cercare magari dei contatti che non ci sono, o che in epoca VAR sono francamente inutili. 6.5 a Fagioli, quanta tecnica, non so se avete visto la clip del rigore di Vlaovic, è stata registrata dal settore ospiti, c'è Fagioli che parte largo a destra, da fuori dall'area di rigore, prende la ricorsa insieme a Vlaovic, perché pensa che l'attaccante possa sbagliare, e quindi vuole andare a ribadire il rete con il tap-in, quindi veramente tanto cuore, lucidità, ordine a centro campo, da parte di Niccolò Fagioli, ormai non fa più notizia, ieri sera ho visto la partita con la sua maglia addosso, sono semplicemente contento di quello che sta facendo Fagioli, e meno male, perché nel precampionato ne aveva giocate tante, ne aveva giocate praticamente tutte, poi era scomparso, l'avevano un pochino tolto dai radar, e adesso si sta prendendo una gran rivincita. Votto 6 a Locatelli, un paio di palle belle per Quadrado nel primo tempo, poi nel secondo tempo, secondo me, è lui che deve prendersi in mano la squadra, è lui, perché Locatelli deve prendersi delle responsabilità in più, deve cercare di essere più leader per questa Juventus, a maggior ragione perché gioca in un ruolo molto delicato, e in quel ruolo gli serve un giocatore che vada a riprendere la squadra, e a rimetterli tranquilli. Sono lui e Di Maria, ed eventualmente Bremer, sono i tre giocatori centrali, che insieme al portiere vanno a comporre veramente la spina dorsale della Juventus. Locatelli, Bremer, Di Maria e Scesni, sono questi quattro giocatori che veramente devono tenere alta la concentrazione anche nei momenti difficili, perché sono i giocatori proprio impilati al centro del campo, ed al centro del campo, che si creano i pericoli, e che bisogna difendere maggiormente. Sugli esterni poi, si può lasciare giocare, ma dentro l'area di rigore bisogna difendere, perché lì che si prende gol, e dentro l'area di rigore bisogna attaccare, perché lì che si fa gol. Spina dorsale della squadra, e da Locatelli pretendo anche questo miglioramento, proprio dal punto di vista mentale, perché sono sicuro che lo possa fare. Se no, semplicemente direi, non lo può fare, mi arrendo. Voto 7 a Rabiot. Ieri sera Sky parlavano di una possibilità di permanenza di Rabiot, maggiore rispetto al passato, con Rabiot che sarebbe disposto ad accettare un rinnovo di contratto con la Juventus in caso di permanenza in Champions League. È prematuro parlarne, vediamo, ma anche ieri sera l'asset del 2-0, Federico Chiesa in verticale, lo firma, il numero 25. Adrian, Rabiot, voto 7. Voto 5, a Kostic, il giocatore meno pimpante della squadra ieri sera, stesso discorso che vale per Danilo, le sta giocando tutte, assolutamente tutte, però Kostic ieri in evidente stato di difficoltà, gli mancava veramente il fiato, capita una partita storta, sono contento che sia accaduto in un momento in cui comunque la Juve è riuscita a vincere tranquillamente più o meno la partita, Kostic con l'Inter dovrà essere un valore aggiunto perché è uno dei giocatori più importanti per questa squadra. Voto 6, Mezzavlaovic, perché comunque il gol in mischia lo fa, fuori gioco, va bene, da regolamento a essere pignoli, ma è fuori gioco, quindi è giusto annullarlo, essere pignoli nel senso che è una regola che non vediamo spesso, fa parte del regolamento, lo sappiamo, l'abbiamo detto anche in presa diretta, purtroppo a noi succedono anche queste cose che solitamente non accadono e Vlaovic non se lo meritava perché aveva bisogno di quel gol, si era anche sfogato, con quel verso, quell'urlo, quel gol che gli mancava terribilmente, due coglioni grossi come una casa a tirare comunque il rigore dopo averlo sbagliato con la Samp, il rigore della paura, sì, però il rigore anche che alla fine è brutto ma efficace, brutto ma buono, possiamo dire così, con un Vlaovic che comunque cerca in qualche modo di prendersi la squadra sulle spalle anche nel primo tempo con quel tiro da fuori aria dopo quella bella gestione del pallone, quindi un Vlaovic che a livello mentale più che tecnico, perché tecnicamente ancora una gara pogrezza da parte di Vlaovic, ma a livello mentale ho visto quello spirito, quella fiamma accesa dentro di lui e quella voglia di levarsi di dosso queste critiche, queste maledizioni, questo digiuno che stava durando veramente da troppo tempo. Dujan, risolvici la gara con l'Inter. Sei meno Ken, perché anche qui quante imprecisione tecnica ragazzi ieri è stata la sagra della bruttezza tecnica, non so quanti errori abbiamo fatto nei primi 15 minuti del primo tempo e per tutto il secondo tempo, veramente tantissimi. Ken si è messo a disposizione della squadra, mi sono piaciuto un paio di sponde da parte di Ken, però quando ha quella bella opportunità tu per tu col portiere devi farmi gol. È un attaccante, deve sentire la porta, va bene le sponde, va bene il lavoro sporco, però Moise, quando hai quell'occasione lì devi sparare là dentro. Quindi una partita tutto sommato sufficiente di sacrificio da comprimario, però poi quando c'è l'occasione bisogna fare gol. Quindi non è una bocciatura, non è una insufficienza grave, Ken ha fatto la prestazione che probabilmente gli ha chiesto di fare allegri a supporto di Vlaovic, però bisogna migliorare anche nelle piccole cose che poi non sono tanto piccole perché fanno veramente la differenza. Anche quella girata poi nel secondo tempo. Bisogna ritrovare il feeling e le dimensioni, la posizione della porta. Bisogna ritrovare queste cose qui. 5,5 a Eiling, non mi è piaciuto particolarmente, mi era necessario fare rifiatare qualche minuto Kostic. Si farà, il ragazzo si farà. Insomma, giocato non tantissimo, gioca in una posizione che lui può interpretare ma nella quale probabilmente fa ancora un po' fatica. È un ottimo vice Kostic, sono felice di averlo visto per qualche minuto. L'avrei messo forse anche qualche minuto prima, ha preso una munizione un po' così, non so nemmeno se era giallo, non una prestazione super incoraggiante, però nemmeno una follia. 8,7 a Chiesa perché non si vede per i primi minuti in cui è in campo e poi gli bastano due lampi. Quella della traversa, lui ha due palle giocabili, fa un gol e prende una traversa. Quella della traversa fa un ottimo movimento a smarcarsi. Ma veramente bello, è un movimento alla Chiesa. Mi è venuto in mente quando nel back on track diceva io devo provare i cambi di direzione perché questo è il mio gioco, questo è il mio modo di giocare. Se io non faccio i cambi di direzione non riesco ad applicare il mio modo di giocare. L'ha fatto, l'ha fatto molto bene, l'ha fatto anche se una settimana fa ci aveva fatto preoccupare con quel ginocchio, ha preso la traversa, non era giusto e poi per fortuna il dio del calcio, il karma, il destino, il fatto, chiamatelo come volete, al secondo tentativo, il palo ha deciso che quel pallone non poteva entrare. Veramente felice. Aggiungo una cosa, che lui fa gol e il primo pensiero dopo il gol è provare a togliersi la maglia. Poi capisce che avrebbe preso una munizione, lascia stare, mette le mani così, chiede scusi ai tifosi della Juventus e poi in diretta televisiva dice sì, ho chiesto scusi ai tifosi perché ero tornato a gennaio, poi mi sono rifermato per l'aduttore, poi sono tornato, poi mi sono rifermato per il ginocchio, io vorrei dare continuità, voglio dare gioia ai tifosi, voglio aiutare questa squadra ma in questo momento non mi riesce, è un brutto periodo. Primo pensiero dopo un gol di questo giocatore è chiedere scusa ai tifosi, Federico Chiesa non ha assolutamente da chiedere scusa ai tifosi, Federico Chiesa è un patrimonio di questa Juve, Federico Chiesa è un giocatore che ha sempre dato tutto per questa maglia, Federico Chiesa è un calciatore di cui io personalmente sono innamorato, Federico Chiesa è un giocatore dal quale dobbiamo ripartire ed è normale che dopo un calvario di un anno non sia in condizioni ottimali dal punto di vista fisico, abbiamo tantissimi giocatori che nemmeno senza essere stati fuori un anno sono precari dal punto di vista fisico, a maggior ragione è giustificabile Federico, quindi prenditi comunque il tempo di rientrare al 100%, sapevamo che questa stagione sarebbe stata un po' di transizione, il Federico Chiesa vero, immagino di rivederlo a partire dall'anno prossimo, tanto cuore Fed, tanto cuore. Senza voto De Sciglio è entrato a pochi secondi dalla fine, quindi non giudicabile, così come Barrenece, anche se ha perso un paio di palloni sanguinosi e secondo me anche in questo caso Allegri non è stato proprio felicissimo, però come healing, no? come sempre, giocatori che sono un po' più giovani è normale che non siano al livello di quegli altri, perché sennò sarebbe assurdo, vorrebbe dire che l'esperienza non conta, vorrebbe dire che la personalità non conta, ci sono anche quei casi, però è normale che i giocatori con meno esperienza all'interno di determinate competizioni che magari hanno giocato come Barrenecea in Serie C, come healing in Serie C, in Europa League abbiano un po' le gambe che tremano e non abbiano lo stesso livello anche se il potenziale c'è ed è assolutamente penso un dato di fatto ma che non abbiano il livello per essere giocatori già impattanti, poi ci sono giocatori come Nicolo Fagioli che alla prima stagione in Serie A ti fanno una stagione del genere o Gatti che non ha praticamente mai giocato in Europa eppure Iris era stato uno dei migliori in campo. E quindi queste sono state le pagelle signori, ci vediamo nel pomeriggio per commentare insieme il sorteggio di Champions e soprattutto di Europa League purtroppo noi dobbiamo focalizzarci maggiormente su quello aspetto le vostre pagelle qui sotto nei commenti ci vediamo dopo.